Il giorno dopo la bufera, drammatiche conseguenze dell'ondata di maltempo che nella nostra regione ha causato ingenti danni e cagionato la morte di un uomo nel Regino, piogge torrenziali e raffiche di vento hanno sradicato alberi e divelto lampioni a Cosenza, toccate punte di 135 km orari. In fumo il magazzino di Tiberio, Bentivoglio, ennesima intimidazione al Reggio Calabria, un incendio ha completamente distrutto i magazzini della sanitaria Sant'Elia di proprietà del testimone di giustizia, imprenditore da anni in prima linea contro il racket. Catanzaro, in piazza, per il Marrelli Hospital, manifestazione di protesta in piazza prefettura dei lavoratori e dei cittadini, del comitato spontaneo Noi vogliamo il Marrelli Hospital, che chiedono il rilascio dell'autorizzazione ad operare per la struttura sanitaria crotonese. La commozione di Carlo Iannuzzi, grazie ragazzi, ha voluto ringraziare collegandosi tramite Skype dalla Clinica Romana, nella quale è ricoverato dal ritorno in Italia, il ricercatore ha aggredito a Buenos Aires nel novembre scorso. Le costosissime cure sono state pagate grazie alla solidarietà dei calabresi. Telespezzatori di La C, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione, lo avete sentito nei nostri titoli. Apriamo con le drammatiche conseguenze del maltempo che nella nostra regione ha causato ingenti danni e soprattutto ha causato la morte di una persona nel Reggino e il ferimento nel Vibonese di un bambino di otto anni che si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Rafiche di vento che in alcuni punti hanno sfiorato i 135 chilometri orari. Una città totalmente flagellata da zissi. Venti fino a 115 chilometri orari ieri a Reggio Calabria, una città spettrale dove non circola nessuno. Il ciclone ha colpito duramente la città dello stretto e la sua provincia ammietendo una vittima. Un agricoltore di candidoni è stato schiacciato da un albero. Danni e disagi in tutta la città, balconi pericolanti crollati, tetti scoperchiati, detriti volanti e autodistrutte dalla furia dello scirocco. Forti le mareggiate sul settore ionico e trasporti fermi sullo stretto, da una sponda all'altra per tutta la giornata di ieri, agli scafi e traghetti fermi al molo. Solo l'aeroporto ha continuato a funzionare, anche se con forti, ritardi e disagi per via delle turbolenze, il volo da Milano delle 13 è riuscito ad atterrare solo dopo diversi tentativi, impressionando alcuni dei passeggeri che hanno accusato malori. Per le strade della città in pochi si sono arrischiati ad uscire e il sindaco Giuseppe Falcomatà ha vietato la circolazione delle autovetture sul lungomare, oltre ad aver ordinato la chiusura delle scuole in via precauzionale per tutta la giornata di oggi. Francesco Creazzo per la CNews24. Ennesima intimidazione al Reggio Calabria. Un incendio ha completamente distrutto i magazzini della sanitaria Sant'Elia di proprietà del testimone di giustizia Tiberio Bentivoglio e l'imprenditore antimafia da anni in prima linea contro il racket. E' finita. Questo è l'unico commento rilasciato finora da Tiberio Bentivoglio. Non l'aveva mai detto prima. Non l'aveva detto quando avevano sventrato per due volte la sua sanitaria Sant'Elia, nemmeno quando avevano tentato di ucciderlo. Stavolta però il danno è troppo grave. Questa notte nel quartiere di Tremulini a due passi dall'università il deposito della sanitaria del testimone di giustizia è andato completamente distrutto. Una bomba ha rovinato tutta la merce, le fiamme hanno inghiottito il sudato futuro che Bentivoglio aveva costruito. L'imprenditore stava per trasferirsi al centro di Reggio in un bene confiscato dove la sua sanitaria avrebbe potuto forse rinascere. Qualcuno non è stato d'accordo e di nuovo vigliaccamente ha appiccato il fuoco. Questa sera alle 19 davanti a ciò che resta del magazzino il sindaco Giuseppe Falcomatà ha convocato un sit-in di solidarietà a favore dell'imprenditore Reggino. Francesco Creazzo per la Cineus 24. Manifestazione di protesta a Catanzaro dei lavoratori e dei cittadini del comitato Noi vogliamo il Marrelli Hospital che chiedono il rilascio dell'autorizzazione ad operare per la struttura sanitaria crotonese. Sono scesi in piazza bloccando per qualche ora il centro di Catanzaro. Un migliaio tra dipendenti del Marrelli Hospital e semplici cittadini riuniti nel comitato spontaneo Noi vogliamo il Marrelli Hospital hanno dato vita a un sit-in in piazza prefettura. Chiedono a gran voce che venga rilasciata alla struttura crotonese l'autorizzazione ad operare. Una delegazione di manifestanti in tarda mattinata dovrebbe essere ricevuta dal prefetto Luisa Latella. Parallelamente davanti all'ufficio del commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit sanitario Massimo Scura un altro gruppo di lavoratori manifesta il suo disagio con striscioni e cori. Crotone chiede sanità urlano i manifestanti vogliamo l'autorizzazione. Su uno striscione si legge scura e urbani che cozzalone della sanità calabrese ma in realtà la questione è molto seria. Il Marrelli ospita l'aspetta da mesi l'autorizzazione per l'apertura bloccata secondo i promotori della manifestazione da cavilli burocratici. Pochi giorni fa il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Riccardo Fatarella ha scritto al commissario Scura per sollecitare la pratica. La protesta pacifica anche se rumorosa mira all'ottenimento in tempi brevi del nulla osta del commissario. In piazza con i lavoratori il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, il senatore Antonio Caridi, la consigliera regionale Flora Sculco e altri primi cittadini del comprensorio. Loredana Colloca per l'AC News 24. E' un settore in piena crisi occupazionale e sicuramente quello dei call center dalla CGL arriva all'ultimo grido d'allarme a rischio, 8 mila posti di lavoro. Sembra non fermarsi l'emorragia di posti di lavoro nel settore dei call center in outsourcing e quanto afferma Alberto Ligato, segretario SIC, CGL Calabria. Assegnare questo nuovo pericolo in un settore troppo spesso maltrattato è questa volta il mancato rispetto delle leggi in vigore, che finirà con mettere a rischio 3.500 lavoratori tra Almaviva e Jepin e altri 4.500 con la scadenza di alcuni lotti della Abramo CC, Call & Call e Uptime. Uno scempio del lavoro che viene perpetrato ad opera di aziende parastatali che assegnano le loro commesse al massimo ribasso ad imprenditori che sfruttano ogni sorta di incentivi, anche con stratagemmi che vanno ben oltre la legalità, per superare nelle gare di assegnazione le aziende che rispettano le leggi. Le aziende che si aggiudicano queste commesse spesso durano il tempo di sfruttare gli incentivi per poi risolversi in debiti e licenziamenti. Amara l'analisi del segretario CGL che invita i lavoratori del settore ad aderire massicciamente l'11 marzo prossimo allo sciopero generale indetto unitariamente dalle segreterie nazionali di categoria. Ha voluto ringraziare tutti collegandosi tramite Skype dalla Clinica Romana nella quale è ricoverato dal suo rientro da Buenos Aires Carlo Iannuzzi. Il ricercatore venne barbaramente aggredito proprio nella capitale argentina nel novembre scorso. Le costosissime cure e il ritorno in Italia sono state pagate anche grazie alla solidarietà dei calabresi. Non mi nascondo che sono molto emozionato per vedere tanta gente e di sentirla vicino anche io oggi. Non mi nascondo che io alcune volte anche qui in ospedale ho pensato ma se ci fossero loro, se non ci fossero stati, io oggi dove sarei, come sarei? Quindi grazie davvero a tutti voi, grazie davvero. Grazie ragazzi. Le prime parole di Carlo Iannuzzi alla sua gente sono accompagnate da un lungo ed emozionante applauso che dalla sala del convento dei minimi di Roccella Ionica è giunto forte nella stanza della clinica capitolina dove il giovane ricercatore è ricoverato per proseguire il percorso riabilitativo in seguito alla brutale aggressione subita in Argentina nel novembre scorso. A fare il punto sulle sue condizioni il comitato è il puente per Carlo, riunitosi per condividere con la cittadinanza roccellese un saluto di bentornato allo sfortunato ragazzo. Non prevista ma particolarmente toccante la testimonianza della mamma Mariolina. Abbiamo ricevuto affetto e sostegno da gente che neanche ci conosceva. Mi è sembrato doveroso esserci per ringraziare tutti di vero cuore. Due, i temi trattati nel corso dell'iniziativa. La rendicontazione delle spese finora effettuate grazie alla campagna di raccolta fondi e l'illustrazione della petizione Libertà di Movimento e Tutele, un fondo di solidarietà per le vittime di reati all'estero. Già lanciata sulla piattaforma change.org Da Roccella per la CNews24 E adesso in breve le altre notizie di cronaca. Nell'ambito dell'operazione Big Bang 2, stamani 14 persone sono state arrestate al termine di un'indagine coordinata dal nucleo investigativo dei carabinieri nelle province di Torino e Asti. Di queste, 12 sono finite in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e due per tentata estorsione in concorso con l'aggravante del metodo mafioso. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal GIP del capoluogo piemontese su richiesta della DDA. I carabinieri di Rosarno hanno arrestato Rocco Rachele, 47enne, già noto alle forze dell'ordine e considerato vicino alla famiglia Pesce, in esecuzione al provvedimento dell'applicazione della misura cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile di associazione a delinquere di tipo mafioso per fatti avvenuti in Rosarno nell'anno 2014. L'uomo si trova attualmente nella casa circondariale di Palmi. Le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno verificato un centinaio di richieste di applicazione dell'Istituto Giuridico del gratuito patrocinio da parte di cittadini residenti nella Locride per il pagamento delle spese legali da parte dello Stato per le persone che non possono permettersi un difensore. I finanzieri avrebbero scoperto numerose irregolarità. Su circa 100 autocertificazioni esaminate tra la fine del 2015 e l'inizio del nuovo anno, 34 sono risultate non veritiere. Questa mattina, intorno alle 11, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone è intervenuta in località Carpentieri per soccorrere un uomo di 68 anni caduto in un pozzo della profondità di 4 metri. Sono stati alcuni passanti ad allertare i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta, si è immediatamente calata nel pozzo insieme ad un medico del 118 che ha eseguito le prime cure. L'uomo è stato poi imbracato, tirato fuori dalla cavità e consegnato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. E non accenna a scemare il Vespaio di Polemi che è nato attorno al nuovo piano regionale dei trasporti che dopo il placeto ottenuto dalla Commissione alla Camera ora dovrà superare il vaglio della Giunta. Sentiamo. È abbastanza ridicolo collegare la crisi dello scalo reggino alla misura di sperimentare a costo zero e per due mesi un sistema di trasporti su gomma per mettere in rete i territori e anche i servizi aeroportuali della Calabria. È dura la risposta del governatore Mario Oliverio al consigliere regionale Alessandro Niccolò, presidente del Gruppo Azzurro, che ha attaccato il piano regionale dei trasporti. Il documento, dopo aver avuto il disco verde della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, si appresta ora ad essere approvato dall'Aggiunta regionale. Oliverio ci tiene a ribadire come tutti e tre gli scali aeroportuali calabresi siano un nodo fondamentale del piano, ma allo stesso tempo non ha perso occasione per ricordare all'esponente dell'opposizione di essere tra coloro che, attraverso la SOGAS, avrebbe responsabilità importanti nella crisi dello scalo reggino. Colpe e lacune gravi, quelle del gessore, su cui Oliverio rinfaccia di essere dovuto intervenire con l'ENAC. Intanto il presidente della Commissione regionale Ambiente e Trasporti, Mimo Bevacqua, ha raccolto l'appello del sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, che in una lettera ad Oliverio lamentava l'isolamento dell'Alto Ionio, escluso, a suo dire, dalle scelte strategiche della regione in materia di trasporti. Bevacqua ha annunciato un'audizione in commissione del primo cittadino e dell'assessore Musmanno, regista della procedura sperimentale su gomma, da cui sembrerebbe essere rimasta ai margini l'area di Trebisacce e dell'Alto Ionio. Tiziana Bagnato, per la CNews24. No a Italia, la sanità previsti dal decreto Lorenzin, così si è espresso a Cosenza il segretario nazionale di rifondazione comunista Paolo Ferrero. Il sistema sanitario è imbalsamato in tutto lo stivale. L'Italia tra le ultime in Europa con una spesa sanitaria in calo con 8 miliardi di tagli. In Calabria la situazione è al collasso sia per i pazienti che per i medici, costretti a turni di lavoro massacranti a causa del blocco del turnover. Si è discusso del decreto Lorenzin durante il convegno organizzato dal partito di rifondazione comunista di Cosenza alla presenza del segretario nazionale Paolo Ferrero. I problemi della sanità in Calabria sono doppi. Ci sono quelli che sta facendo il governo nazionale perché la logica dei tagli del ministro Lorenzin che impedisce ai medici di fare il loro mestiere, che toglie analisi, esami, è una logica che porta alla distruzione del servizio sanitario. C'è un secondo punto che è il problema della sanità calabrese dove il governo viene fatto e viene disegnata la sanità non per risolvere i problemi dei cittadini ma per risolvere i problemi dei primari. L'iniziativa politica ribadiscono gli esponenti del partito all'intento di aprire un conflitto e stimolare la gente alla protesta perché settori come la sanità e l'istruzione devono essere garanzia per tutti. 4 miliardi di euro che verranno tagliati alla sanità pubblica questo vuol dire evidentemente continuare a favorire la sanità privata o trasformare il diritto alla salute in un privilegio quando in realtà la scusa che usano è che non ci sono i soldi, i soldi ci sono, basterebbe toglierli ad opere inutili come la TAV o come la metropolitana leggera. Rossana Muraca per la CNews24 Al via l'Università della Calabria e il Master di secondo livello in Intelligence il corso è stato presentato dal promotore docente del corso Mario Caligiuri. Al via l'unica alla quinta edizione del Master in Intelligence e Scienze Umane diretto dal professore Mario Caligiuri. Tante le novità e le collaborazioni con il Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione in simbiosi con la Facoltà di Ingegneria. Abbiamo un corpo docente di grande livello con il segretario generale della CRU che è l'organismo che raggruppa tutti i rettori italiani, Alberto Detoni. C'è il segretario generale della Farnesina, il responsabile di tutti gli ambasciatori del nostro paese, Michele Valenzise. Ci sono tre ex direttori dei servizi, Vittorio Stelo, Luigi Ramponi e Nicolo Pollari. Ci sono professori universitari come Antonio Baldassarre, Paolo Savona. Le conclusioni saranno affidate a un Alexio Magistralis di Giulio Tremonti, presidente di Aspen Istituto Italia. Un'occasione di rilievo per l'Università della Calabria per far conoscere quella che sarà la nuova disciplina accademica del XXI secolo, che formerà gli specialisti dei servizi segreti i nuovi 007 del domani. Stiamo puntando su queste figure particolari, molto specializzate, in un settore che in fondo è un settore particolare, non è quello di tradizione del sistema universitario, perché noi specializziamo ingegneri, umanisti, eccetera. Questo è un settore particolare ed è importante, soprattutto oggi. Rossana Muraca per la CNews24. Una giornata di festa per la città di Vibo Valencia, posticipata di 24 ore a causa dell'anno bisestile. Il primo marzo, un fitto calendario di eventi religiosi per i fedeli di San Leoluca. Vibo Valencia si ferma per celebrare il suo santo patrono. Domani, primo marzo, ricorre infatti la festa di San Leoluca, una ricorrenza resa speciale dalla coincidenza con il Giubileo della Misericordia, proclamato da Papa Francesco. Si tratta di un momento importante per tutti i cattolici della comunità vibonese, in quanto, oltre a sancire la comunione della comunità con la vita del proprio santo patrono, permetterà a tutti i fedeli presenti di ottenere l'indulgenza plenaria lucrabile da tutti i fedeli in forma giubilare alle consuete condizioni, come precisa la curia nel comunicato diffuso da Don Antonio Purita, parroco del Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca. Intense le attività che coinvolgeranno i fedeli a partire dalla Messa Solenne delle Undici, presieduta per l'occasione da Monsignor Luigi Renzo, Vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, e animata dal Coro Magnificat, con successivo omaggio floreale al Simulacro del Santo, ad opera dei Vigili del Fuoco. Le celebrazioni si sposteranno poi nella piazza antistante il Duomo, a partire dalle 17, e saranno coordinate dalla comunità di Filogaso con la consegna del Comunitarium, per terminare alle 19.30 all'interno del Teatro Valenzianum con la firma della dichiarazione di impegno tra le due comunità. Da Vibo Valencia per la CNews 24. E passiamo allo sport con il calcio. Dopo il successo sul Vicenza che ha portato il crotone a più 10 sul Pescara, Mister Juric fa i complimenti ai suoi, ma continua a tenere i piedi per terra. Si ha visto veramente un bellissimo crotone, penso, su tutti i segmenti di gioco abbiamo fatto veramente bene. Io penso anche che quando troviamo le squadre che vogliono giocare calcio escono anche partite belle, che riesci anche a rubare le palle, ripartire, quello che dicevamo l'altro giorno. Oggi siamo stati bravi, secondo me, in tutto, sia in gestione della palla, abbiamo anche trovato attaccanti che hanno fatto bene, siamo stati anche bravi subito a recuperare il pallone, aggressivi, anche così abbiamo fatto il primo gol. Oggi è stata una grande dimostrazione del gruppo che quelli giocatori che giocano poco hanno fatto veramente un'ottima prestazione. Penso che ci hanno dato anche, quello che dici te, un slancio emotivo, di entusiasmo, rispetto magari a giocatori che hanno dato tanto e sicuramente erano un po' stanchi. Vicenza ha messo la Verone sul martella, praticamente un giocatore che normalmente fa terzino, infatti ha fatto l'ultimi 30 minuti di terzino, lo hanno messo molto più in avanti cercando di bloccare martello. Hanno fatto una mossa tattica, diciamo, difessiva per bloccare quella fascia. Penso che per questo non è stato facile per Bruno, però poi quando la partita si è aperta un po', ha fatto veramente di nuovo ottime cose. E in Lega però continua a sognare la Serie B. Il Cosenza, Arrighini e Lamantia asfaltano la Juve Stabia regalando ai Lupi il nono successo casalingo. Il Cosenza si conferma imbattibile al Marulla. I silani infilano la nona sinfonia davanti al suo pubblico, lì dove sotto i colpi dei Lupi cade anche la Juve Stabia. Maedome le Vespe combattive fino all'ultimo in un match fortemente condizionato dal vento. Sfruttato alla grande del rosso-blu nella prima frazione così tanto, da infilare un doppio schiaffo ai Campani che risulterà micidiale. Lamantia in campo dal primo minuto in coppia con Arrighini, una scelta azzeccata. Al sedicesimo, verticalizzazione perfetta di Statella per Arrighini, che porta palla per 20 metri e davanti al portiere lo beffa così. Il Marulla fa festa e spinge i propri Beniamini al raddoppio che arriva puntuale dieci minuti dopo. Arrighini questa volta fa da assist man per Lamantia e gol a fil di palo. La gara è in ghiaccio, ma la Juve Stabia non molla. Nel secondo tempo accorce le distanze praticamente subito, con Diop. Il Cosenza alza il muro e difende il vantaggio. Nel finale Lamantia potrebbe calare anche il Tris, ma basta il 2-1 e i Lupi per continuare a sognare la Serie B. Alessio Bonpasso per la CNews 24. E in Serie D dura solo 11 minuti il derby calabrese tra Vibonese e Reggio. Il forte vento ha costretto infatti l'arbitro a sospendere la partita che verrà recuperata verosimilmente il 23 marzo prossimo. Vince il vento tra Vibonese e Reggio Calabria come su altri rettangoli di gioco anche nel derby di Calabria valevole per la 29esima giornata di campionato tra le due formazioni in campo alla meglio Eolo. Su Vibbo Valencia le raffiche superano anche 100 km orari. A Luigi Razza è praticamente impossibile giocare. Rosso Blu ed Amaranto ci provano per 11 minuti in cui la Vibonese studia situazioni di gioco attendendo gli avversari e la regina colleziona calci d'angolo. Poi sullo stadio Rosso Blu il vento si fa più forte e la signora Carella della sezione di Bari sospende il gioco per la prima volta. Sull'orologio non sono passati neppure 11 minuti. Il break con la speranza che lo scirocco abbandoni Luigi Razza dura un quarto d'ora. Le due squadre rientrano in campo qualche scambio ma il vento è ancora troppo energico. Il pallone torna indietro sul rinvio e rimesse e l'arbitro di comune accordo con i due capitani decreta il tripice fischio sospendendo la gara in maniera definitiva e rinviandola a data da destinarsi. Match che verosimilmente si giocherà il prossimo 13 marzo quando il massimo torneo di lettanti osserverà un turno di sosta. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Il Gragnano affonda la palmese ed il patronero verde carbone esonera Rosario Salerno decisione non condivisa dalla DS Regino Olivieri che rassegna le dimissioni. Il Gragnano cala il tris e la palmese sprofonda nel buio più assoluto. A Rosario Salerno costa caro carissimo il capone la città della pasta il quarto consecutivo il settimo nelle dieci partite del girone di ritorno. Il tecnico The Record è stato ufficialmente sollevato dall'incarico provvedimento adottato direttamente dal presidente neroverde Pino Carbone e comunicato all'ormai suo ex allenatore sul pullman che ha riportato in Calabria giocatori e staff. Verticale la discesa in classifica dalla palmese dopo il giro di Boa poco tempo per salvare il salvabile la notizia delle sono ero ragione nell'aria dopo lo stop pesante a Luigi Razzarivibo contro la Vibonese fra Tese e Gragnano erano le ultime due chance che la società regina aveva dato a Salerno per rialzare la testa sono arrivate due sconfitte e da lì la decisione del patron Carbone che tuttavia non ha trovato d'accordo tifosi e direttore sportivo Giancarlo Olivieri infatti preso della decisione del presidente neroverde ha rassegnato le dimissioni in segno di contrasto con quanto disposto la situazione tuttavia resta in evoluzione qualora tutto dovesse essere confermato sulla panchina della palmese dovrebbe accomodarsi l'ex termoli Marcello Casu quanto al match di Gragnano sugli scudi il bomber Ciro Foggia autore della doppietta che ha ribaltato l'iniziale vantaggio calabrese e firmato Citrigno sul gong il golla di Leone che ha portato a tre le reti di casa e fatto rotolare la testa di Salerno Alessio Bonpasso per la CNews24 e sfiora l'impresa la Vigor Lamezia contro la Versa Normanna i biancoverdi si portano in vantaggio sfiorano il raddoppio ma nella ripresa si fanno riacciuffare continua la tradizione nel segno dell'X tra Vigor Lamezia ed Aversa Normanna quando Calabresi e Campani si sfidano parecchie volte nessuno riesce ad avere la meglio situazione che si amplifica al guido di Polito dove arriva il terzo 1-1 consecutivo un punto che non stravolge la classifica biancoverde e Lametini rimasti in quota retrocessione diretta ma che torna a far sorridere la truppa di Gatto dopo il capo con il Due Torri di sette giorni fa a rovinare i piani del trainer Vigorino l'influenza che ha praticamente ghigliottinato la rossa a sua disposizione tuttavia i Lametini vanno vicini all'ennesima impresa stagionale facendo venire brividi alla più quotata avversaria diretta concorrente di Vibone Serreggio alla lotta playoff ottimo l'inizio dei biancoverdi campani quasi impauriti dalla foga Vigorina al 39 arriva anche il vantaggio di casa con la torsione di Fioretti che trasforma in golla il calcio di punizione di Giannusa Fioretti che poco dopo ha una clamorosa occasione per portare a due le reti di vantaggio Lametine e il palo a spezzare la gioia e sulla ribattuta Priorelli spara alto nella ripresa si fa viva la Versa che al 19esimo ristabilisce gli equilibri torre di Guastamacchia per Ramaglia e sul tabellone è 1-1 come le due volte precedenti al dippolito le 5 totali su 7 incontri Alessio Bonpasso per la CINUS24 E si conclude qui l'appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi prima di lasciarvi come sempre un breve riepilogo dei principali servizi andati in onda in questa edizione del telegiornale Una città totalmente flagellata da Zissi 20 fino a 115 km orari ieri a Reggio Calabria una città spettrale dove non circola nessuno il ciclone ha colpito duramente la città dello stretto e la sua prima è finita questo è l'unico commento rilasciato finora da Tiberio Bentivoglio non l'aveva mai detto prima sono scesi in piazza bloccando per qualche ora il centro di Catanzaro un migliaio tra dipendenti del Marrelli Hospital e semplici cittadini riuniti nel comitato spontaneo Noi vogliamo il Marrelli Hospital hanno dato vita a un sit-in in piazza Mi nascondo che sono molto emozionato per vedere tante gente e sentire da vicino anche io non mi nascondo che io alcune volte anche qui in ospedale è abbastanza ridicolo collegare la crisi dello scalo reggino alla misura di sperimentare a costo zero e per due mesi un sistema di trasporti su gomma per mettere in rete i territori e anche i servizi aeroportuali della Calabria e dura la risposta Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia